Buongiorno a tutti voi. Oggi volevo parlarvi come passare da uno strumento di formazione online o definito e-learning a uno strumento di business online per la vostra formazione. Oggi noi vogliamo rispondere a quel problema che hanno tanti enti formativi, cioè quello di fedelizzare i loro corsisti e quello di vendere in maniera ripetitiva ai loro corsisti, perché il business di qualunque azienda sta nel rivendere con costanza ai medesimi clienti. La fedelizzazione è quello che ci permette di vendere a Maglio Rossi non solo il corso di marketing base, ma anche il marketing di social media marketing e anche il corso di funnel marketing. Questo è la necessità e il problema di tanti enti formativi, cioè creare un sistema quanto più automatizzato per tenere un'ottima fedelizzazione col cliente e dargli la possibilità di partecipare più facilmente. Cioè aumentare i momenti di acquisire i clienti, oltre alla erogazione. Altro problema che abbiamo come formatori o come istruttori o come consulenti è quello di poter avere dei dati da parte di un sistema che mi faccia capire se l'utente ha o no utilizzato e ha frequentato quel corso. Uno per migliorare il livello qualitativo della formazione, due per portarlo a terminare il corso, che vuol dire poi avere una sua customer e riproporre eventualmente un altro servizio. Allora cosa parliamo? Non parliamo più di e-learning, ma parliamo di sistemi di formazione online per fare business. Allora cosa abbiamo inventato e realizzato? Noi non parliamo più di sola erogazione del corso, della formazione online o live, ma parliamo di erogazione, parliamo di fedelizzazione e parliamo di creazione di nuovi utenti e di nuovi corsisti. Cioè noi dobbiamo aumentare il numero di corsisti. E come, cosa fa allora per voi, per voi istruttori, per voi formatori e per voi coach la piattaforma e-learning? Allora, più di tutto va a erogare, cioè vuol dire quella parte basica, cioè che fanno tante piattaforme, che è quello di inserire dei contenuti multimediali o non, che sono video contenuti, l'utente può accedere attraverso una piattaforma tramite una username e una password. Vi ricordo che la nostra piattaforma virtualmente non chiede all'utente finale né a voi segreteria un software da installare. Per quello, entrate, vedrete i vostri contenuti, questi contenuti vengono fruiti e l'utente finale poi terminerà il corso con un attestato o preceduto da un test finale ed è avrà frequentato il corso. Cosa avviene? Adesso abbiamo il secondo step. Il formatore e il coach hanno bisogno anche di capire cosa ha fatto il suo corsista nel corso, cioè deve monitorare, cioè deve sapere ha visto il video? Sì o no? Quanto l'ha visto? Sì o no? Ha aperto o no quella presentazione di PowerPoint? Ha fatto il test finale? Ha ricevuto l'attestato sì o no? Una volta, e ancora oggi tante piattaforme, siete voi coach, voi formatore, dover andare in piattaforma e vedere se effettivamente ha fatto e sollecitare l'utente. Virtual Meeting vi aiuta, vi fa recuperare tempo, perché oltre a dirvi nell'area registro attività che Mario Rossi ha aperto il video, quanto l'ha visto, se ha visto i video di YouTube o i video di Vimeo, vi dice quante volte ha provato a fare il test, se l'ha superato o no, se ha aperto o no l'ha testato, se ha compilato la customer. In un processo di automazione, se si vuole automatizzare, dove l'utente tramite un processo ottiene automaticamente l'attestato. Per quello fate il corso, voi pensate al vostro business, virtualmente fa il resto, vi arriva l'attestato. Però abbiamo detto, ma quanti formatori o coach hanno il tempo? Perché questo è il valore, come diceva qualcuno, il tempo una volta che è passato non lo recuperi più. Allora, così vedete, abbiamo messo un tutor online, cioè un sistema, questi bot, dove vanno a monitorare tutto il vostro stato di avanzamento del vostro partecipante. Cosa dice? Se non hai finito il test, ti incito a finire il test. Se non hai compilato la casa, caro Mario Rossi, termina la customer. Se non hai ancora aperto l'attestato, ti arriverà un'email in cui ti dice, guarda che c'è l'attestato per te. Tutto questo ho fatto dei bot automatizzati, dove di fatto abbiamo un tutor online che è fatto per voi e vi permette di soddisfare a quel bisogno, a quel problema, che si chiama tasso di abbandono. Noi, da analisi, con voi coach e voi formatori, abbiamo notato che c'è un tasso di abbandono notevole. Cioè, corsi gratuiti, mi scrivo, però non termino. Corsi CM, non ottengo il cater, però se non avete i corsi di finale, avete meno utenti e non potete ovviamente poi rendicontare. Allora, questo vale nei corsi, ma vale anche nelle pillole formative che potete inserire. Se qualcuno ha visto, come tutti sanno, le tecniche di marketing temporali, ok? Questo discorso temporale vuol dire che io, ok, in quel momento ho ottenuto, che arriva alla fine, poter poi iscriversi a un corso. Allora, la tracciabilità è totale in questo momento. Soddisfa anche quel bisogno di formatori, in ambito, per esempio, consulenza, che devono rendicontare, ok? La loro formazione nei confronti dei loro clienti, la cosiddetta formazione obbligatoria. Lo soddisfiamo anche a quel problema e a quel bisogno, ok? Però sussiste anche un altro problema che noi formatori, noi coach, noi istruttori abbiamo, che è quello di dire, ok, io, Mario Rossi, sei iscritto, ok, ma ho bisogno di far sì che creo più possibilità di vendita o di nuovi contenuti, nuovi corsi. Allora, cosa abbiamo detto? Abbiamo inserito un interessante, due cose fondamentali. Se il corso viene pubblicato pubblico, noi, Virtual Meeting, generiamo un catalogo online aperto a tutti i nostri partecipanti, dove chiunque vede quel corso, perché quello è pubblico, ok, una pagina web a vostra disposizione viene indicita da parte nostra sul motore di ricerca, o tale che quel corso è già subito una marcia per la vendita, ok? Acquista o accedi, automaticamente. Ma non è finita lì. No, aiutiamo i nostri clienti a aumentare le possibilità di vendita. Voi potete, attraverso Virtual Meeting, generare anche iscrizioni online, cioè tramite una form che si genera attraverso Virtual Meeting, gli utenti si possono iscrivere dalla piattaforma a medesimo corso, gestendo ovviamente i dati all'interno di Virtual Meeting e-Learning. Però non è finita lì. Quando l'utente si iscrive, si genera una pagina, una classica Thank You Page, dice una pagina di ringraziamenti, dice grazie, ti abbiamo inviato i vostri codici, ma cosa vedrà? Vedrà anche tutti i corsi che sono realizzati da voi, per quello che se il consulente di formazione ha tre corsi RSPP, piuttosto che un corso di protezione antincendio base medio-alto, vedrà anche quelli, in cui si potrà in questo caso fare che cosa? Acquistare anche quel contenuto. E ora si è creato un flusso all'interno della piattaforma. Non sono finite le novità, abbiamo a breve due grandi novità. Tutto quello che io vi ho detto adesso è già operativo, ok, per voi. Poi abbiamo analizzato un altro momento interessante che è un problema. Ma molti formatori, molti coach, si hanno una pagina web istituzionale, però non hanno un sistema dove far vedere i loro corsi o le loro attività member. Allora cosa mi hanno detto? A breve uscirà una pagina landing page o squeeze page in automatico che potrà essere utilizzata da parte vostra per pubblicizzare tutti i corsi o le attività formative che avete all'interno della nostra piattaforma, aumentando ancora una volta la cosiddetta possibilità di conversione dei vostri corsi con un altro elemento aggiuntivo. Cosa arriverà anche a brevissimo? Oltre a queste pagine ad accedere e iscriversi, avremo un terzo passaggio. Avete la possibilità di venderlo. Avrete la possibilità di vendere i vostri corsi all'interno del network, ok? Dove avrete un bel carrello e da lì gli utenti potranno pagare con carta di credito e direttamente si abiliterà il vostro username e password. Per quello oggi la piattaforma sta offrendo a noi formatori. Io parlo perché sono un coach in ambito marketing e vendita, forse si è capito. E allora cosa succede? Io se vendo il corso di web marketing strategico, voglio anche passarlo magari al corso di funnel marketing, ho bisogno anche che qualcuno lo vende perché ricordatevi che il time, cioè il momento in cui l'utente vede un altro corso, se abbiamo venduto un corso, la cosiddetta regola del portafoglio aperto permette di vendere un altro corso successivamente. Allora, elenco, acquista e io acquisto un altro. In sostanza, noi non siamo una piattaforma di learning classica. Noi vogliamo essere un vostro partner commerciale, vogliamo farvi vendere, vogliamo erogare bene, vogliamo far sì che il vostro utente viva un'esperienza positiva, ma che questo utente e il nostro cliente, noi formatori, tu formatore, tu coach, possa aumentare il tuo business e per aumentarlo dobbiamo darti la possibilità di strumenti di marketing sempre più sofisticati. Oggi stiamo lavorando per voi. Queste sono le novità di Virtual Meeting e su questo noi ci stiamo lavorando con tante altre pillole che arriveranno per ottimizzare i processi di iscrizione online. Adesso grazie, auguro a tutti voi una buona Pasqua e a tutti voi grazie ancora.